Siamo qui con il numero 35 della Dinamo Sassari, la nostra ala centro, Kenit Kaji. Da quando sei arrivato a Sassari la Dinamo non ha mai perso. Sì, è abbastanza una bella sensazione questa cosa qui, ho cambiato totalmente la mia esperienza dopo la squadra in cui giocavo in Grecia. Era uscita da un po' di partite perse, per cui è assolutamente una bella sensazione. Che ruolo pensa di aver avuto lui in questa striga? Per quanto riguarda l'Alti's win, quali sono le ruole per te? Per questo team? Sì, per tutti i risultati positivi. Penso che sia portare energia. Non una cosa in particolare, non tanto difendere bene quanto fare i punti, ma semplicemente portare energia alla squadra, parlare con i miei compagni e dare il massimo di quello che io posso dare per far vincere la squadra. Sì. Sì. Penso che sia una delle nostre migliori caratteristiche. che semplicemente Meo ci mette in campo, guarda le nostre capacità e vede quello che noi possiamo dare al massimo per aiutare la squadra. Sì. 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 Contattami di pochi, giudici che vogliono vincere e hanno un complice di più e da sempre. Sì. 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 Emprimamente inizia la tua squadra, però spesso non credo quandorendi. Quanto di quella della squadra secondo regionale, perciò E' a vincere, perché la nostra squadra vinca, per cui sì, conferma assolutamente questo. In il game of, ah no, he's talking about the next game against Milan, what do you think about? First of all, the first game I played against them was in the championship, so it was an unbelievable atmosphere, I expect the same thing, I think they have been looking forward to this game since the championship game of the Italian Cup, so we know that it's going to be a tough game and a hard game, we just have to prepare our week and be ready to go there for a battle. Can you say something about your choice to come here in Europe, to start on your experience here in Europe? You know, I always, when you play in America or in university, your dream is to play in the NBA, obviously. I experienced a little bit of it and it was great, but I think that, you know, in Europe, the fans, the people around the community, it's just a greater feeling around the team. And so far I love it, you know, this team, this city has been great for me and, you know, I can see how much of a family it is, even though it's a small city. You know, obviously when you're in college, you're in the American college, you're in the NBA, this is your dream, but coming here in Europe is a lot of things. innanzitutto imparare, crescere sempre di più in difesa, in attacco, poi questa squadra per me si sta rivelando un'esperienza fantastica, mi sta insegnando, sto migliorando un sacco, la città è piccola, è molto accogliente e io qua mi sento come appartenente ad una famiglia. Dopo la vittoria in Coppa hai portato la bandiera del Cameroon. La mia città è natale, la mia famiglia arriva da lì, tanti miei amici, io sono orgoglioso del mio paese e soprattutto in questo periodo in cui stanno accadendo delle cose con il terrorismo, volevo semplicemente dimostrare alle persone, al mio popolo, che sono con me, loro che mi guardano e che mi sostengono e che sono orgoglioso del mio paese, dare questo contributo con il mio lavoro. Dopo la vittoria in Coppa, si sente di poter auspicare un traguardo maggiore che pescavano se non diciamo. Potete sentire che la squadra potrebbe ottenere più grandi gol? I think so, you know, there's a lot of talento in this team. I just think that for us it's to sustain our energy every day, play hard and listen to the coaches. I think, like I said, the Italian Cup gave us a lot of confidence. Everybody is playing well and we just got to keep going and like I said, after this game against Minahou will know where we stand because it's a good team, it's the first team in the league and it'll be a great game there. Abbiamo un sacco di talenti nella nostra squadra e sicuramente la vittoria della Coppa Italia ha aiutato a crescere come consapevolezza, per cui assolutamente penso che noi dobbiamo continuare a lavorare duro, concentrarci sulla nostra crescita personale e individuale e della squadra per arrivare più in fondo possibile. What about the fans? What do you think about the fans? I like them. I mean, they told me before I came in that the fans was quiet. I haven't seen it yet. You know, to me it's loud in there and, you know, they are into the game. So I really like the fans. I think that they're really happy, especially at home, you know, play well. Play like the coach want us to play. Qualcuno mi aveva detto che era un pubblico silenzioso, ma non ho ancora visto questo. Mi sembrano molto rumorosi, è molto bello giocare in casa, ti senti proprio sostenuto. Poi soprattutto senti che puoi dare di più, stiamo giocando bene, sicuramente questo aiuta. Sono contentissimo di loro, di averli dalla mia parte. Grazie a tutti.